Sicuramente dettagli in pelle perché Richmond secondo me è molto molto pelle e molto molto borchia. Comunque il dettaglio nero perché vedo molto nero in Richmond. I think it can be for everyone. It's the only thing you just must feel a little rock inside, that's all. Mi piace perché è rock, io ho un animo rock però senza mai tralasciare la sensualità di una donna, quindi è rock al punto giusto ma anche sensuale. La borchia, poi lo stivaletto, il tronchetto particolare, comunque Richmond si riconosce sempre in tutte le sue societature. Mi piacciono molto tutto quello che è la pelle, i giubbotti, i pantaloni e poi gli abiti ormai che loro stanno diventando maestri e anche gli abiti eleganti che sono anche un po' rock, che non guasta mai. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.